Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio darvi dei piccoli consigli su come trasformare il vostro spazio attraverso delle poche semplici regole in uno spazio accogliente in cui sentirvi sempre motivati e sereni. Innanzitutto mi presento, sono Rita, ho 22 anni, sono laureata in interior design, attualmente lavoro come freelancer e come graphic designer e social media manager in uno studio di architettura a Roma. Ho anche un blog di lifestyle attraverso il quale mi piace condividere dei consigli su uno stile di vita sostenibile, più produttivo e organizzato. Se vi va vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con il video. Che ci si debba lavorare, studiare o semplicemente dormire, organizzare al meglio il proprio spazio è super utile per ridurre al minimo lo stress e sentirsi sempre più motivati e sereni. In particolare, le quattro regole da cui partire sono ridurre all'essenziale, organizzare, riordinare e acquistare consapevolmente. Mi voglio soffermare soprattutto su quest'ultimo punto perché da un anno a questa parte mi sono avvicinata a quello che viene oggi banalmente chiamato minimalismo. In realtà il minimalismo per quanto mi riguarda non è una scienza esatta, non esistono delle regole del minimalismo, delle regole minimaliste. Se hai più di 30 capi non sei minimalista, per quanto mi riguarda non è così. Per me il minimalismo significa cercare di vivere una vita in modo più intenzionale possibile. Quindi fare delle scelte consapevoli, fare delle scelte intenzionali. Soprattutto quando si acquista qualcosa, in questo caso, chiedersi se quella cosa ci serve veramente. Se la stiamo acquistando solamente perché in quel momento siamo stressati e ne abbiamo magari già altre 10 uguali a casa e la vogliamo comprare solamente perché, non lo so, ci gira così. Quindi fare degli acquisti più consapevoli, capire se effettivamente quello che stiamo acquistando ci serve veramente. Questo vi aiuterà non solo a rimanere circondati solamente di cose che vi servono veramente, quindi a non accumulare cose, che è sempre una fonte di stress, perché magari poi ci si ritrova sommersi da cose che poi alla fine non utilizziamo. Utilizziamo una sola volta e poi buttiamo. Anche per ridurre lo spreco, perché acquistando più consapevolmente tendiamo a buttare via meno cose e ci circondiamo solamente di cose che realmente ci servono, che realmente ci trasmettono un'emozione. Seguendo queste semplici regole ho imparato ad amare ciò che ho, perché prima tendevo ad acquistare compulsivamente e a circondarmi di oggetti. Che alla fine poi non mi piacevano per niente, voi direte perché li hai comprati, non lo so. Però alla fine mi ritrovavo circondata di oggetti che non mi piacevano, che non utilizzavo, che non mi servivano veramente. E alla fine una o due volte l'anno mi ritrovavo sempre a fare il famoso decluttering, quindi a buttare via un sacco di cose che magari non avevo neanche utilizzato una volta. Quindi c'era uno spreco enorme. Mentre invece ora ho capito che quando acquisto qualcosa, qualsiasi cosa, quando decido che un nuovo oggetto deve entrare nella mia vita, nel mio spazio, devo chiedermi necessariamente se quell'oggetto mi serve effettivamente. In questo modo ho ridotto al minimo lo stress, in quanto quando devo cercare una cosa so sempre dov'è e non devo scavare tra mille oggetti inutili. Ho imparato quindi a comprare meno ma meglio, quindi a puntare sulla qualità piuttosto che alla quantità. Il secondo consiglio è quello di regalare ciò che non usate più, in quanto ci sono persone che potrebbero farne buon uso di ciò che voi non usate più. Guardatevi intorno, guardatevi intorno perché molto probabilmente possedete già ciò di cui avete bisogno per organizzare il vostro spazio. Un altro punto a cui tengo tantissimo è quello di dimenticare la plastica, ragazzi, per favore. Siamo nel 2021, lo stiamo distruggendo questo pianeta, scegliamo materiali più naturali ed ecosostenibili come il legno, il vetro, la ceramica. Non solo l'ambiente vi ringrazierà ma sono anche più belli da vedere, molto più belli da vedere e quindi li potete lasciare in bella vista. Un'altra cosa che a me ha aiutato tantissimo è quella di creare una serie di abitudini, quindi una routine, una routine di abitudini veramente basiche e stupide come rifare il letto la mattina, che sembra veramente una capolata ma in realtà rifare il letto la mattina è dimostrato scientificamente che rende le persone più sane, positive e con più successo. Appendere sempre la giacca, quindi riporre sempre la giacca nello stesso posto, evitare quindi di buttarla ovunque quando si torna a casa, così come riporre sempre le chiavi nello stesso posto. Quante volte vi è capitato di non trovare le chiavi? Oh mio Dio, dove sono le chiavi? Devo uscire? Ok, sono tutta pronta, avevo mascherina, mi sono ricordata anche la mascherina, non trovo le chiavi. Dove sono le chiavi? Quindi avere sempre un posto in cui riporre le chiavi è fondamentale per ridurre al minimo lo stress. Scusate il leggero cambio di inquadratura, mi si era caricata la fotocamera, ma andiamo avanti. Portare sempre con sé una tote bag è fondamentale sia per non ritrovarsi con 10.000 sacchetti in plastica che sono non solo brutti ma inquinano tantissimo, quindi è super facile portare sempre con voi all'interno della borsa una borsa in tela che potete utilizzare quando andate a fare acquisti e fare poi una pulizia rapida prima di andare a dormire. È una cosa banale ma mettere a posto i panni che avete in giro della stanza, magari sulla sedia o le scarpe in giro per la stanza, mettere a lavare i panni sporchi, mettere a caricare i dispositivi elettronici è super utile. Dunque, entriamo nello specifico e vediamo quali sono le semplici regole da seguire per avere uno spazio più organizzato. La prima regola è appendere. Appendere qualsiasi cosa, pensare come uno shaker, quindi riempire le pareti di barre con pioli, ganci. È una soluzione super economica, super facile, super bella che vi permette di tenere sempre tutto a portata di mano e sott'occhio in modo da non dimenticare di avere nulla e vi lascio qui sotto in descrizione delle barre a pareti che ho trovato io su Amazon. La seconda regola è trasportare, quindi porta vivande, carrellini bar, sono perfetti per radunare e trasportare oggetti e all'occorrenza, quando non avete bisogno o avete ospiti, possono essere nascosti facilmente. La terza regola è quella di etichettare. Etichettare, ragazzi, io etichetto veramente qualsiasi cosa, la qualunque. Le etichette sono fondamentali per capire la collocazione di un oggetto. Potete stamparle, potete scriverle a mano, potete utilizzare anche semplicemente il washi tape con un penale indelebile, quindi lo scotch di carta che sicuramente tutti avrete in casa. La quarta regola è quella che a me piace di più ed è quella di radunare sui vassoi. I vassoi vi permettono di radunare degli oggetti piccoli e sfusi di ogni genere, impedendo che si perdano e inoltre a me piace pensare al vassoio come una sorta di cornice per un quadro in quanto crea coesione e valorizza ciò che c'è all'interno. Appendere alla porta è un altro consiglio super utile in quanto possiede lo stesso vantaggio di appendere alle barre laterali delle pareti ma con un doppio vantaggio in quanto appendendo dietro la porta gli oggetti rimangono nascosti. Un altro consiglio è quello di nascondere i cavi. Ragazzi, non c'è nulla di più brutto e fastidioso da vedere di mille cavi in giro, intercetti tra loro. Una soluzione facile può essere quella di una molletta di metallo o ancora esistono delle piccole scatole che si vendono su Amazon, vi lascio il link qui sotto in descrizione, che si ripongono nei cassetti con i cavi all'interno, sono fatte apposta. Una regola che mi piace molto al pari di radunare nei vassoi e che possono essere anche combinate è quella di creare dei kit. Quindi radunare tutti gli oggetti o i prodotti utili a un'azione ricorrente che può essere la beauty routine, il make-up, lo yoga, in uno stesso posto. Che può essere anche un vassoio. E in questo modo riducete al minimo lo stress, avete sempre a portata di mano quello che vi serve, perché magari non dovete cercare in quella stanza quel determinato oggetto per quell'azione. Nell'altra stanza, quell'altro determinato oggetto sempre per la stessa azione, mentre invece avete per la stessa funzione tutti gli oggetti in un unico posto. Il nono consiglio è quello di coordinare, quindi radunare oggetti della stessa categoria in uno stesso posto. E penso che abbiate capito che questa è la regola fondamentale, ma soprattutto abbinare loro un dispositivo di conservazione. Quindi ad esempio per i pantaloni le grucce in legno, per le camicie le grucce bianche, poiché l'uniformità trasmette coesione e ordine mentale. L'ultimo consiglio, ma non meno importante, è quello di uscire fuori dagli schermi. Quindi non siate troppo rigidi, se mentre fate decluttering, mentre organizzate, trovate un contenitore ben fatto, di qualità, che magari inizialmente era destinato a qualcos'altro, utilizzatelo. Bene ragazzi, con questo era tutto. Io spero vivamente che il video vi sia piaciuto. Ho in mente mille idee per altri nuovi video, sia a tema organizzazione e produttività, ma anche a tema lifestyle, ricette e altre mille cose. Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere con un like, magari iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Vi lascio tutto qui sotto in descrizione. E se avete domande, scrivetela nei commenti e noi ci vediamo super presto per un nuovo video. Ciao!